Buonasera gentili telespettatori, ci ritroviamo ancora una volta e come sempre vi ringrazio per questa vostra cortesia. L'apertura di questa sera ci porta a Messina dove sono stati effettuati numerosi arresti in funzione di quello che si ritiene possa essere la riorganizzazione della mafia messinese e questo in particolare quando ci fu l'attentato a Francesco Cuscinà nel 2018 che era uno dei membri di spicco della mafia messinese. Vediamo. I carabinieri hanno fatto luce sul tentato omicidio di Francesco Cuscinà, 64 anni, avvenuto a Messina il 25 agosto dello scorso anno. L'uomo venne colpito al braccio e alla torace da colpi di pistola. L'arresto di oggi in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere è scattato per Giuseppe Cutedi, 39 anni, e Paolo Gatto, 22. Sono accusati di tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso, porto e detenzione di arma, rapina aggravata in concorso, trasferimento di valori. Paolo Gatto è figlio di Puccio, bosso del clan di Ginostra, da anni in carcere. L'aguato si consumò in pieno giorno. I due, a bordo di uno scooter, raggiunsero Cuscinà, tornato in libertà da Circonanno, esplodendo dei colpi di pistola. Poi fuggirono mentre Cuscinà si recò in ospedale. Secondo i carabinieri, l'uomo si era salvato per l'inceppamento della pistola. Il GIP ha sottolineato il clima di omertà e reticenza che ha contrassegnato l'intera vicenda e questo ha rallentato le indagini. Il momento è per gli investigatori e da ricercare nei contrasti interne. Clan a fornire importanti elementi ai carabinieri della compagnia Sud anche le dichiarazioni di Giuseppe Minardi, collaboratore di giustizia, che ha riferito di aver appreso in carcere del ferimento. Dalle intercettazioni si è scoperto pure l'atteggiamento della mamma di Gatto che lo redorguisce per una rapina ai danni di un distributore di benzina di proprietà di una famiglia amica e dopo il ferimento lo fa allontanare per un periodo. Il procuratore aggiunto Rosa Raffa ha parlato di estrema pericolosità del fenomeno mafioso nel rione di Giostra proprio perché i tentativi di riorganizzazione allo Stato sono ancora tali e dunque c'è tanto fermento tra i clan. E adesso andiamo a Mister Bianco. Ci sono grossissimi problemi per quanto riguarda il deposito di tutto quello che viene raccolto per quanto riguarda i rifiuti. Il sindaco di Guardo non ci sta a questo allungamento dell'utilizzo delle discariche. Sentiamo perché. E' decisa la replica del sindaco di Mister Bianco Nino Di Guardo in riferimento all'annosa vicenda che riguarda la discarica valanghe d'inverno in contrada Tiriti. Poche settimane fa la regione siciliana ha prorogato la certificazione ambientale che autorizza l'attività per altri dieci anni sollevando l'ira dei due comuni, quello di Mister Bianco e quello attico di Motta Sant'Anastasia. Dopo che ieri l'OICOS aveva dato l'opportunità agli organi di informazione di varcare i cancelli della struttura per verificare le condizioni della discarica arrivano puntuali le dichiarazioni contrastanti del primo cittadino Mister Bianchiese. Dopo la nebbia si chiedisce tutto, invece non è come sostengono loro. Si tratta di una discarica illegittima perché dista 800 metri dei centri abitati invece c'è la legge che stabilisce che almeno 3 km deve distanziarsi la discarica. Loro dicono ma siccome è un rinnovo facciamo con la legge la legge. Non è così, non è un rinnovo. È un'autorizzazione ex novo perché ci sono elementi diversi da quella di prima soprattutto perché quella del 2009 è illegittima. C'è stato un funzionario che è condannato a 9 anni e il titolare a 6 anni quindi è quella discarica che è legittima. Su una cosa illegittima non si può costruire una cosa legittima. Quindi io dico le chiacchiere restano chiacchiere. I fatti sono che questa discarica valanghe d'inverno è illegittima. è stata basata su falsi presupposti. Noi ci opporremo davanti al TAR, faremo tutte le battaglie giuste perché questa comunità deve essere liberata da una cangrena che per anni avvilisce la vita di mister Bianco e Motta. Questo è il mio punto di vista. Quindi quali le mosse nelle breve? Intanto impugniamo il prevedimento, questo del 2019, e andiamo al TAR, sull'altra parte siamo stati alla regione per chiarire, abbiamo presentato un dossier per spiegare perché questa discarica è illegittima. Siamo qua e portiamo avanti la nostra battaglia perché per noi, per me, la battaglia per la discarica è la battaglia per la vita, per dare dignità a una comunità che soffre di questa presenza avvilente della discarica a due passi dal centro abitato. E' sempre un favotore dei termovolizzeratori? Certo, se non si fanno alcuni, in tutto il mondo progredito, in Italia ce n'è 49, nella Lombardia ce n'è 9, in Emilia 7, in Toscana, perché in Sicilia non si debbono realizzare? Per morire è in mezzo a spazzatura, per dare possibilità alle discariche di avvelenare l'ambiente e di far arricchire alcune private. Se ci fossero i termovolizzeratori di nuova generazione, il problema dei rifiuti si andrebbe di per sé a risolversi. La regione siciliana non ha solo il problema dei rifiuti, ma anche il problema di economia. Pensate, il disavanzo definitivo accertato della regione siciliana è di 7,3 miliardi di euro, una cifra di quelle veramente spropositate. Di questi, 6.300 circa, miliardi, sono stati spalmati in circa 30 anni per poterli pagare. Il Presidente Musumeci dice che non è solo colpa mia, ma è un po' di tutti quelli i governi che ci hanno preceduti. A questo punto il problema non è tanto di chi è la colpa, ma il problema è che la Sicilia certamente non sciala e non si trova in condizioni economiche di una certa rilevanza. Adesso andiamo a Catania, dove finalmente si comincia a capire che l'allentamento dei mezzi privati nella città può essere solo determinato da due fattori, i parcheggi e nello stesso tempo poi i centri, in maniera tale che per quanto riguarda i pullman si sia una certa velocità, altrimenti saranno sempre e solo chiacchiere. Il servizio. Ancora qualche problema, credo, da parte della regia. Vi chiediamo scusa dall'altra parte quando c'è la diretta succedono fatti di questo genere. Adesso, come vi dicevo, parliamo del piano parcheggi. Uomini e mezzi all'opera lo vedete questa mattina per i lavori di realizzazione dell'area a parcheggio nella porzione di via Bernini a Catania, una zona contigua a largo Bordighera nei pressi di piazza Michelangelo. Lo sbancamento e il livellamento del terreno necessari per poter ospitare in via temporanea oltre 200 vetture. Gli interventi disposti da sostare, d'intesa con il comune di Catania, che è il proprietario dell'area, si concluderanno entro un mese e saranno divisi in due fasi. La prima, che riguarda appunto i lavori di riqualificazione. Poi la seconda, che prevede anche la messa a dimora di albere, una riqualificazione generale dello spazio con una piccola zona dedicata allo sgambamento. Prenderà il nome di parcheggio Bordighera. Questa servirà anche alla scuola. Gli insegnanti, bene, che posteggino lì. Ci sarà un parcheggio che Sostare controllerà a prezzi particolari, proprio perché finalizzato a questo tipo di esperienze. Alla stessa cosa vorrei dire a commercianti che anche loro di posteggiare in questo parcheggio per far sì che i loro utenti possano trovare più spazio in Viale Veneto. Quindi è una modalità educativa, quindi voglio dire che la città deve avere e questo è il primo percorso affinché si possa realizzare la vera mobilità sostenibile. Quanti posti auto ospiterà questo parcheggio? Sì, guardi, mediamente dovrebbe essere tra i 200 e i 250. A ultimati lavori sarebbero più precisi, ma sicuramente più di 200. Ovviamente è un bello sfogo. A questo poi sottolineerei anche Piazzale Sanzio, che ovviamente è anch'esso adibito al parcheggio, anzi con i finanziamenti regionali sarà parcheggio scambiatore, quindi da maggior ragione e con una ottimizzazione del trasporto pubblico locale con le navette che ovviamente potrebbero anche far arrivare l'utenza, la gente in Viale Veneto in brevissimo tempo. Speriamo che la città possa in questo senso dare una mano a se stessa e all'amministrazione perché possa tutto funzionare al meglio. Lei accennava a Piazzale Sanzio, al parcheggio Sanzio, c'è anche quello Ognina, ci sarà anche quello Narciso, sono stati annunciati nelle scorse settimane dal Presidente in una conferenza stampa a cui lei era presente. C'è un disegno ben più ampio che riguarda la mobilità all'interno di Catania? E' tra gli obiettivi, anzi se non il principale, di questa amministrazione. Noi vogliamo educare il cittadino, chiaramente ottimizzando il trasporto pubblico locale e integrando la ferrovia circomettennea RFI e il trasporto pubblico locale in un sistema sinergico affinché il cittadino possa lasciare la macchina e il mezzo in uno dei parcheggi che stiamo utilizzando allo scopo, prendere o la metropolitana o la RFI che ha le sue fermate pure all'interno della città oppure la MT che ovviamente è il sistema che stiamo ottimizzando grazie al Presidente Bellavia e possa questa città avere meno macchine. Adesso parliamo di un'altra realtà. La Croce Rossa italiana, la città metropolitana di Catania, si siedono allo stesso tavolo per un progetto che riguarda le persone vulnerabili. Vediamo. La città metropolitana di Catania e la Croce Rossa etnea a sostegno di un progetto per persone vulnerabili. È stata presentata questa mattina l'iniziativa denominata RIVER risposte per la vulnerabilità e il rischio di marginalità sociale dedicato proprio alle persone con difficoltà deambulatorie e a chi ha particolare sensibilità psicosociale. È stata illustrata nel corso dell'incontro l'attività avviata alla masseria Torre Allegra in prossimità della foccia del fiume Simeto patrocinata dalla città metropolitana di Catania con l'impiego di personale esperto in salvataggio in acqua, di operatori in emergenza e di volontari. Un progetto qualificante che permette di valorizzare una splendida parte del nostro territorio qual è l'oasi del Simeto e permette altresì di renderla fruibile a coloro i quali hanno problemi di ambulazione, marginalità sociale e mille altre problematiche che talvolta rappresentano un ostacolo insormontabile per la fruizione di beni ambientali di eccezionale valenza come l'oasi del Simeto. Ecco perché la Croce Rossa italiana al suo presidente Stefano Principato, la Lippo, il dottore Rannisi, al direttore dell'oasi del Simeto, il dottore Torrisi, va certamente il plauso della città metropolitana che ha inteso condividere questo importantissimo progetto. L'estate è un periodo particolare, viene vissuto da molti con un periodo di divertimento di vacanza, purtroppo non per tutti è così, ma ci sono delle vulnerabilità che si aguliscono proprio in quel periodo estivo di luglio, agosto, settembre perché queste marginalità vengono fuori con più forza. Si pensa alla persona disabile che rimane a casa perché la struttura chiude oppure del bambino che non viene seguito a dovere, viene abbandonato, viene lasciato a se stesso e quindi spesso è vittima proprio di momenti di noia. Allora abbiamo immaginato questo progetto che possa regalare loro un'estate diversa, che possa riscaldare quelle fredde giornate estive con un progetto che li possa portare in questo viaggio multisensoriale, in un'uso spettacolare come lo Sede del Simeto dove si può appunto ammirare una fauna particolare, una flora particolare, un paesaggio stupendo e che sarebbe impossibile fruire di questo oasi senza un supporto qualificato che i nostri operatori hanno perché per raggiungere questa struttura purtroppo non ci sono dei percorsi dedicati alle disabilità e grazie a Croce Roste, grazie a questo progetto da oggi questo è possibile rendendolo a si veramente aperto a 360 gradi. E a proposito di vulnerabilità, non è solo quella fisica, ma ci sono delle vulnerabilità anche di ordine psicologico, in particolare coloro i quali non hanno una casa, non hanno un lavoro, sono disoccupati e difficilmente riescono a trovare occupazione. Questa mattina hanno protestato davanti al centro per l'impiego di Catania per far sentire la loro voce. Questi disoccupati, una volta riuniti nella sigla Casa per Tutti, adesso Comitato Reddito Casa Lavoro, lamentano appunto la difficoltà sia di lavorare sia di poter avere una casa, che sono due nomi inscindibili, è un binomio senza il quale non c'è appunto dignità sociale o meno. La misura del reddito di cittadinanza, hanno detto stamattina, non sempre è sufficiente per tutti e sono tante le famiglie che non riescono a percepire questo reddito di cittadinanza o se lo percepiscono inevitabilmente non è sufficiente al nucleo familiare. Ci auguriamo che anche per loro si possa risolvere il problema. Cambiamo decisamente argomento, parliamo della festa di Sant'Agata, lo facciamo attraverso le parole del nuovo presidente, il quale ci dice che è un onore per lui, ma anche gli tremano le gambe per la responsabilità. Sentiamo. Soltanto all'idea dell'emozione gli tremano le gambe, ma c'è anche tanto entusiasmo e la voglia di portare un contributo che possa ulteriormente arricchire la festa di Sant'Agata a Catania. Incontriamo Riccardo Tomasello, il neopresidente del Comitato per i Festeggiamenti Agatini, questa mattina all'indomani della nomina ufficiale a vertice di uno degli organismi cardine delle celebrazioni della Santa Patrona. 41 anni, originario di Paternò, ma da 23 anni nel capoluogo etneo, imprenditore nel campo sociale e agricolo, devoto da sempre già al lavoro per l'edizione della festa 2020. L'ho accolta con grande commozione, con grande orgoglio. È un ruolo molto importante in questa città perché è molto legata da una fede fortissima, da una devozione alla Santa Patrona Agata, quindi sicuramente tremano le gambe. C'è tanta emozione, ma allo stesso tempo tanto entusiasmo perché desidero creare un momento di confronto, di coesione, di unione. C'è la necessità che questa festa sia sempre più una festa di tutti, dove ognuno di noi porta avanti attraverso il proprio ruolo l'amore per questa festa e la passione. Lei coglie il testimone lasciato da Francesco Marano che ha detto che negli ultimi anni, soprattutto sul fronte della sicurezza, è stato fatto tanto per questa festa. Lei come vede questa evoluzione? Ringrazio il Presidente Marano per il ruolo e soprattutto per il lavoro che il Comitato ha svolto all'inizio proprio dell'esistenza stessa del Comitato. è una festa che punta molto sulla sicurezza, sulla sicurezza, sul rispetto delle regole e quindi andremo sicuramente avanti su questa strada. Lei segue la festa da Catanese d'Aduzione da oltre 20 anni. Ha visto un cambiamento nel tempo di questa celebrazione? Io la seguo da tanti anni e ho quei momenti personali di raccoglimento intimo quando la passa Sant'Agata e vedo il suo volto per me, è una grande emozione e poi la porto tutto l'anno, invoco la sua intercessione e la sua vicinanza ogni giorno nelle mie preghiere e ho sempre visto questa festa sempre partecipata. Il mese scorso Sant'Agata di mezz'agosto adesso ci si prepara alla grande festa il 3, 4 e 5 febbraio. Non sono poi così lontani, ci saranno incontri, avete già una programmazione? Assolutamente, ci avviciniamo alla festa e quindi inizieranno una serie di incontri, di confronti, conoscerò i protagonisti della festa e soprattutto poi chissà delle novità, vediamo cosa possiamo aggiungere ad una festa così bella. Il suo contributo per la festa? Il mio contributo sarà un contributo legato ad esempio ad alcuni eventi che potranno essere realizzati che pongano al centro l'arte ad esempio. L'arte è un modo di avvicinarci a Dio oltre alla preghiera e quindi sicuramente possiamo mangiare Sant'Agata con delle belle iniziative artistiche che possono attirare anche un flusso turistico. Adesso una triste notizia che ci porta ad essere vicini alla famiglia di Ripostese la quale ha perso nell'arco di due giorni nell'arco di un tempo brevissimo due gemellini. La bambina era nata il 6 di settembre e il fratellino è morto sette giorni dopo. La procura di Messina ha aperto un'inchiesta per fare luce sul caso anche perché i genitori hanno naturalmente mandato una denuncia. Si pensa, si teme, non so trovare il termine esatto perché saranno poi i periti a stabilire che cosa sia realmente successo che due potessero avere una leggera forma di ittero poi hanno avuto qualche infezione il dato certo è che tutte e due sono morti e con la nostra vicinanza alla famiglia in un momento di dolore così forte. Bene, adesso andiamo ad Acireale cambiamo decisamente argomento la cronaca è fatta di queste cose e ne parliamo perché si è trovato un accordo fra i due licei di Acireale classico e scientifico per sistemare una situazione che inizialmente pareva non molto chiara. Vediamo. Trovato l'accordo tra i licei Gulli e Pennisi e Archimede di Acireale gli studenti dello scientifico verranno ospitati in tre aule ricavate nel modulo esterno del liceo classico scongiurando così lo spavoracchio dei doppi turni. La questione della carenza di aule all'Archimede che ha una popolazione scolastica di 1700 studenti e un disperato fabbisogno di locale aveva alimentato qualche attenzione tra i dirigenti dei due storici istituti cittadini e neanche l'intervento dell'ufficio patrimonio dell'ex provincia di Catania che ha competenza sulla gestione degli istituti superiori ha placato gli anima alimentando un certo manessere tanto che anche tra gli studenti si è registrata qualche attenzione con accuse incrociate sui social network rientrata nel corso di un incontro tra la delegazione di studenti dei due licei svoltasi ieri pomeriggio. La notizia del raggiunto accordo di cessione delle aule del liceo classico e gli studenti di Rimpettai e dell'Archimede ha messo in subbuglio la comunità studentesca del Gulli Appennisi che stamani si è dato appuntamento nell'area com di Corso Italia manifestando il proprio disagio rispetto alla decisione di cedere spazi ai liceari esterni. D'altronde i dirigenti dell'ufficio scolastico dell'ex provincia regionale di Catania ente svuotato dai poteri politici da tempo ormai non possono assumere decisioni di natura progettuale e finanziaria come la costruzione di nuovi moduli e aule negli spazi interi all'Archimede scegliendo la via breve dell'ottimizzazione del patrimonio immobiliare scolastico. La polemica per il momento a quanto pare è rientrata nell'albio della collaborazione la soddisfazione per il raggiunto accordo del dirigente dell'Archimede Riccardo Biasco. Grazie alla collaborazione della provincia regionale della presidenza e di tutti i docenti del Classico che dopo le iniziali perplessità hanno compreso le nostre reali esigenze naturalmente noi non vogliamo togliere il disagio dal liceo Archimede ed aggiungerlo al liceo Classico Gulli Appennisi assolutamente no andremo ad occupare tre o quattro aule esattamente quelle che avevano bisogno di manutenzione ed attualmente non erano in uso così riusciremo a non dare fastidio ad entrare in sordina all'interno di quella scuola prestigiosa come la nostra. La collaborazione in questo caso funziona e abbatte le polemiche che ci sono state nei giorni scorsi peraltro stavolta i ragazzi del Classico hanno fatto una piccola manifestazione. Sì, la collaborazione e il dialogo tra i dirigenti tra le segreterie e anche tra i ragazzi che ieri si sono incontrati qui al liceo Archimede forse non lo sa nessuno in maniera ultra democratica e si sono conosciuti si conoscevano già probabilmente e hanno discusso di questo tema e forse hanno capito che una soluzione in dolore c'è cioè far sì che la provincia metta a norma alcune aule con piccoli interventi per evitare che il Gulli Appennisi soffra di una restrizione e compressione degli spazi Scongiurati dunque doppi turni? Sì, per noi sì stiamo facendo i salti mortali come architettura dell'orario cioè andiamo ad utilizzare gli spazi le aule delle classi che vanno in palestra o delle aule che vanno in laboratorio e avremo come l'anno scorso un giorno libero alla settimana diverso per ogni classe Scongiurati doppi turni, sì e auguri a tutti i ragazzi e adesso restiamo in campo scolastico e lo facciamo perché a Cireale un gruppo di studenti straniere provenienti dalla Germania hanno visitato la città per un collegamento fra il mondo scolastico acese e il mondo scolastico tedesco sentiamo Una trentina di studenti dell'istituto scolastico Costant della Monima Cittadina a sud della Germania in visita a Cireale nell'ambito di un progetto di scambio linguistico-culturale tra scuole di pari grado gli studenti tedeschi sono sbarcati ieri in città e stamani sono stati ricevuti dal sindaco Stefano Lì che per l'occasione ha aperto alla visita il piano nobile del palazzo municipale si tratta di alunni del corso di italiano accompagnati dal corpo docente che resteranno a Cireale per tutta la settimana ospitati in casa di studenti acesi lo stesso gruppo di liceali che ha visitato con la medesima formula la cittadina tedesca scopo dell'iniziativa affinare la conoscenza della lingua italiana e scoprire l'isola e le sue bellezze Renate Sandman è la docente di italiano presso l'istituto Costant è bellissimo qui siamo stati accolti colorosamente all'aeroporto e siamo contentissimi di poter stare qui Lei è un'insegnante di italiano in Germania? Sì, di italiano, sì Vedo che ci sono molti studenti che vogliono imparare italiano Oramai sì, un po' meno però sì, una certa cifra perché anche a Costanza abbiamo molti abitanti italiani ci sono molti ristoranti italiani gelaterie sì, negozi Ne starete quattro settimane cosa farete? Allora vedremo Catania l'Etna ovviamente poi Siracusa Taormina un po' di tutto Gli scambi linguistico-culturali tra i due istituti contribuiscono a migliorare la conoscenza della lingua alimentando i rapporti di collaborazione tra studenti in programmi di studi a distanza agevolati dall'impiego dei social referente del progetto per la cereale e la professoressa di tedesco dell'Archimede Maria Pitronaci Lo scopo di questo progetto è quello di avvicinare i nostri studenti a culture usi e costumi chiaramente che sono diversi rispetto alle nostre tradizioni hanno la possibilità di vivere in famiglia e quindi vivere direttamente la vita quotidiana insomma di questi ragazzi e nel frattempo senz'altro è un esercizio linguistico molto utile anche se nel caso della lingua tedesca è ovvio che molte volte la comunicazione avviene in inglese questo è senza ombra di dubbio è vero però c'è quelli insomma c'è i ragazzi più preparati riescono a comunicare anche in lingua facendo soprattutto questa esperienza al quarto anno quando già hanno alle spalle tre anni di studio Adesso parliamo di ambiente lo facciamo andando ad Acicatena dove il comune si è messo d'accordo con quello di Valverde per cercare di mitigare il rischio idrogeologico che con le piogge autunnali in quella zona ha sempre un grossissimo problema vediamo con l'arrivo delle prime piogge autunnali i comuni di Acicatena Valverde Aci Sant'Antonio dialogano allo scopo di stabilire piani comuni di interventi e limitare l'elevato rischio idrogeologico nelle rispettive comunità a pagare allo scotto maggiore Acicatena costretta a gestire non senza difficoltà lo sversamento di acqua piovana nel proprio territorio collocato in una depressione naturale che favorisce l'accumulo di reflui provenienti dalle due cittadine a monte Il dialogo avviato lo scorso anno ha consentito di rallentare il fenomeno con una serie di accorgimenti concordati che hanno prodotto i risultati sperati L'intervento su Torrente Settepani per esempio ha alleggerito la portata di acqua che si riversa nella parte antica della frazione di San Nicolò proveniente da Valverde causando legamenti e disagi alla circolazione viaria in questo tratto di strada che corre in direzione dell'eromo di Sant'Anna Su questo fronte il sindaco di Valverde Angelo Spina annuncia novità importanti Abbiamo approfittato a ottobre del 2018 non appena insediati per cercare di risolvere questo problema è capitato con l'assessorato di infrastruttura della regione siciliana una progettualità che potesse mitigare questo ragguaglio delle acque e siamo riusciti a fare la progettualità e siamo rientrati all'interno del finanziamento con una progettualità ammissibile e pare che entro dicembre dovremmo avere l'importo per poter fare in modo di realizzare le opere le opere consistono nell'evitare questa discesa di acqua che abbiamo qua da raccolta di tutti i paesi e di riportare questa stessa in una zona di spandimento vicino al nostro cimitero che ha proprio un utilizzo e una destinazione d'uso nel piano regolatore come zona di spandimento A Cicatena riceve la pioggia dei comuni a monte e la gestione dei flussi di acqua con la maggiore portata degli acquazioni registrate negli ultimi anni è diventato un problema serio e di gestire per l'occolumità della popolazione servono strategie condivise il prossimo incontro è stato fissato il primo ottobre con l'Aci Sant'Antonio che rilascia milioni di litri di acqua piovane in direzione del centro Catanoto da via Scale Sant'Antonio via Cubisi e via Tavolone l'assessore alla protezione civile di Aci Catena Angelo Russo ha inviato inoltre una diffida al CAS il Consorzio Autostrade Siciliane intimandogli di ripulire il sistema di scarico pluviale che sversa una significativa quantità di acqua piovana alimentando le difficoltà di gestione dell'evento meteorico naturale e ciclico su cui anche il primo cittadino Nello Oliveri invoca collaborazione sicuramente la concertazione e la sinergia diventano un mondo fondamentale per risolvere delle problematiche le abbiamo focalizzate fin dall'inizio del mandato e quest'oggi incontriamo Valverde e debbo dire che già l'anno scorso questo incontro è stato proficuo perché soprattutto per quanto riguarda le pietre che provenivano dal torrente Settepani che è una strada che sversa direttamente sul nostro territorio il problema è stato risolto al 90% adesso rimane da risolvere il problema dell'acqua piovana quando ci sono piogge intense e soprattutto per gli abitanti di San Nicolò diventa importante risolvere questa problematica perché poi automaticamente l'acqua entrando da quella via che si chiama torrente Settepani arriva nella parte vecchia di San Nicolò e poi nella parte nuova e a volte ha creato anche allegamenti dei piani semi interrati sono già due anni che prima della stagione delle piogge della stagione autunale ci concertiamo con i sindaci con i colleghi dei comuni a notte Valverde e Alge Sant'Antonio in particolare dove di comuni accordo si programma degli interventi da fare soprattutto sui canali di Gronda ma su Alge Sant'Antonio entra in causa anche il CAS il consorzio autostradale che sversa tanta acqua verso Acicatena e speriamo di risolvere tutte queste situazioni per non piangere poi sull'atto versato siamo a grandi passi verso l'autunno manca pochissimo autunno significa anche vendemmia ci sono delle zone particolari per quanto riguarda il vigneto e la lavorazione del prodotto del vigneto una di queste è Santa Venerina che con l'Eno Etna vuole appunto realizzare quello che è il connubio fra la cittadina e il vino sentiamo un'edizione la ventitresima ricca di eventi enogastronomici e non solo Santa Venerina è pronta a porsi in evidenza con l'Eno Etna la piazza delle eccellenze della Sicilia e dell'Etna l'evento è organizzato dalla comune di Santa Venerina dalla regione siciliana e da altri enti non manca la collaborazione con alcuni istituti scolastici del territorio con l'inaugurazione prevista per sabato prossimo 21 settembre alle 18 nella villa comunale guardate ci sono tutte le buone ragioni per venirci a trovare c'è il vino con la casa del vino presentato e guidato da da esperti sommelier e in molti casi anche direttamente dai produttori c'è la piazza delle eccellenze con una selezione di espositori siciliani ci sono le occasioni di spettacolo uno ogni sera dal folk alle cantautori all'opera dei pupi c'è davvero di tutto c'è il folklore con i due pali il palio delle contrade della prima domenica e il palio delle botti della seconda domenica c'è un territorio che si mette a festa per questa occasione ci sono le cene a tema di cinque ristoranti locali che offrono dei menu speciali in occasione di Enoetna c'è veramente tanto una mostra di carretti siciliani quindi ci sono molte occasioni di richiamo saranno anche ritengo delle belle giornate quindi le famiglie possono venire a divertirsi a Santa Venerina dove cerchiamo di dare un'offerta qualificata e anche competitiva rispetto alle tante offerte che il territorio offre in queste settimane gli stand della mostra mercato Enoetna saranno aperti nel piazza Roma dalle 18 alle 24 dei prossimi due sabati e dalle 9.30 alle 24 delle due domeniche successive tradizioni culinarie svago conoscenza del territorio e spettacoli al centro della Kermes sono state confermate diciamo quello già consolidato negli anni passati le enogite i vari giochi in piazza il palio delle contrate la via dell'arte le enogite già detto da questo abbiamo aggiunto alcune cose l'associazione italiana celiachia che permette di far venire tutti quelli che hanno dei problemi con l'intolleranza al glutine e questo perché per sensibilizzare un po' come dicevo poco fa di sensibilizzare tutti a 360 gradi sia chi ha questo problema ovviamente e lo vive in prima persona sia chi non ha questo problema per cui a mio avviso è stato un qualche cosa di importante anche quest'anno con piacere partecipiamo all'evento questa manifestazione è in un clima di costruttiva collaborazione che esiste tra scuola e territorio in particolare tra la scuola alberghiero di Giara e il comune di Santa Venerina nel desiderio di dare ai nostri ragazzi fornire un ampliamento dell'offerta formativa che porti a un ampliamento anche delle competenze acquisite all'interno del territorio uscendo dai confini dell'attività didattica che si svolge nelle aule bene gentilità e spettatori finisce qui il nostro incontro vi ringrazio per essere stati assieme a noi vi ricordo che se volete rivedere il nostro notiziario potete farlo su internet cliccando al sito che vedete in sovraimpressione vi ricordo inoltre che alla fine del medio quindi subito dopo il medio verrà messo in onda un servizio che parla dell'inaugurazione di una sede della Chebanca e che è avvenuta a Giarra buona serata Le previsioni del tempo del 19 settembre uno giovedì all'insegna della variabilità in Sicilia prevalenza di ceno sereno poco nuvoloso che diventerà però a tratti molto nuvoloso in Sicilia occidentale e centrale con possibilità di locali piovaschi sulle aree interne dell'isola soprattutto nelle ore della sera i venti saranno deboli di direzione variabile i mari poco mosso il tirreno da poco mossi a mossi rimanenti bacini le temperature in lieve calo le massime a partire dal settore occidentale ma con valori ancora elevati sulla piana di Catania dove si manterranno intorno ai 32 gradi pressoché stazionari e le minime la città più calda sarà ancora una volta Siracusa e la città più calda la città più calda e la città più calda Inaugurata a Giara la sede di Che Banca del gruppo Mediobanca che intende portare nella città un modo diverso di approcciare gli istituti bancari nel locale di Viale Libertà 105 gli utenti potranno trovare dei consulenti che aiuteranno ad approfondire e far conoscere il mondo della piccola finanza che se adeguatamente conosciuto permette di avere una guida che dà sicurezza Giara in questo momento non gode dell'antica prosperità ma perché banca questa è una scommessa in cui credere come ci dice il direttore Alessio Gurriero Il progetto è iniziato circa due anni e mezzo fa è un progetto di creazione di lancio di una rete di consulenti finanziari sul mercato italiano e la Sicilia rappresenta per il gruppo invece una regione sul quale fare degli investimenti importanti perché è una regione a nostro avviso ricca ricca dal punto di vista finanziario il punto di vista patrimoniale e nella quale possono essere fatti a nostro avviso investimenti importanti perché siamo certi che poi nel medio e lungo termine i risultati saranno altrettanto importanti abbiamo aperto sino ad oggi dieci uffici di consulenza come questo di Giarre abbiamo a Target l'apertura di altri uffici come abbiamo a Target anche il recutamento di altri professionisti di altri contulenti finanziari e siamo assolutamente contenti di quello che stiamo facendo in Sicilia come lo stiamo facendo e siamo assolutamente certi che i risultati che abbiamo prefissato riusciremo a raggiungerli nel corso dei prossimi anni la specificità poi di questa sede è quella di offrire alla clientela la possibilità di utilizzare la macchina ATM che permettono con facilità di conoscere al meglio tutto quello che concerne il mondo dei piccoli come dei grandi finanziamenti e investimenti gli uffici sono degli uffici di consulenza quindi come detto precedentemente non sono delle vere e proprie filiali bancarie ma sono degli uffici che hanno degli spazi dedicati per la clientela per erogare proprio il servizio di consulenza nel loro interno abbiamo installato delle macchine ATM automatiche che consentono alla clientela di vivere la stessa experience che vive all'interno di una finale bancaria perché attraverso questa strumentazione tecnologica il cliente riesce con l'utilizzo del Bancomat ma anche senza l'utilizzo del Bancomat con delle credenziali personalizzate a fare tutte le operazioni che normalmente un cliente riesce a fare all'interno di una finale bancaria quindi una sostituzione della filiale bancaria attraverso l'utilizzo di questo ATM voluto pochi i problemi legati poi alla fruizione dato che gli orari non sono quelli degli sportelli bancari come normalmente succede nelle banche ma orari di ufficio quindi una maggiore flessibilità per quanto riguarda l'approccio con i clienti che si di un'unico di un'unico di unico Grazie a tutti.